Non c'erano boccette Nascoste da qualche parte No Lei guarda i quadri Nulla Allora Non c'era proprio nulla Fra le panche Che cazzo Speravo un fottio Allora Giusto Arrivato qua Devo fare una cosa Aspettate Devo fare una cosa Arrivato qua Fammi vedere Aspetta Aspetta Perché Mi sono dimenticato Di fare una cosa Ho messo un attimo giù Tutto ma Note Te torna su Te torna su E spero che O no O no Ho glitchato Tutto Ho glitchato Tutto No aiuto Ho fatto un macello Ho fatto un macello Ok Ok Normale Mi si stava Mi si stava glitchando Ogni cosa ragazzi Stavo avendo paura Stavo avendo paura Devo Perdonare la tizia Nel confessionale Per avere istantaneamente De mille punti Quindi ora scusatemi Devo prima Prendere la mappa Qua Perché la mappa Ci serve Ora Entra qua Entra qua E devo ascoltare La tizia Prendere la tizia Prendere la tizia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perdonare questa tizia ci dà mille punti. Giusto. Controlliamo ancora una volta, non voglio fare stronzate. Sì. Forse ce la facciamo a tenere il finale. Guarda come stanno urlando lì sotto. Spero non si sentano davvero questi bimbi qua fuori. Spero non si sentano. Allora... 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 Ah, abbiamo la pistola in mano, non la spada laser. Ok, aspetta. Quella era chiusa e dovevamo fare cose dopo, ma... Ora era un macello. Ora era un vero macello entrati qui dentro. Un'arma OP? Rischia... Usiamolo, usiamolo. Ma... Che macello. Ah, era solo lui, era solo lui, va bene. Ok, aspetta, era solo lui. Pensavo ci fossero mille mila persone. Allora era dopo e ce n'erano tutti. Scappa. Aspetta. Fine? È morto? È questo thing morto? È questo thing morto? Grazie. Ok. Qua? Nulla. Allora era dopo e c'era gente bastarda. Era dopo. Era dopo e c'era mille mila persone. Niente proiettili strani. Ah, giusto. Dobbiamo montarlo come nemico ammazzato. Non ci posso credere, non ho preso danni. Allora. È che questo nemico qui, quando è da solo, ancora ancora è fattibile. Allora, adesso cosa... Mi sembra di aver visto roba, ma... Non ero sicuro. Allora, aspetta. Adesso prendi questo. No. Non. No. 15%. credo sia morto ma si ok 3 mi sto ho ancora abbastanza luce per riprendermi si nel dubbio accendiamo questa nel dubbio accendiamo questa così quando farà veramente buio non avremo problemi 50 60 ci siamo quasi ci siamo quasi no 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 non poter vedere è un macello madonna prende danno contro il ciccione prende danno contro il ciccione madonna oh mio dio ti prego non posso morire contro il ciccione mi rifiuto mi rifiuto di morire contro il ciccione mi rifiuto di morire contro il ciccione sono di nuovo la vita gialla cioè il fottuto bastardo alto due metri non mi ha fatto un cazzo ma lui mi ha dovuto toccare ho solo non ho un cazzo di oggetto curativo non ho uno straccio di oggetto curativo non ho un cazzo di oggetto curativo nulla qui la musica set era importante sì ok mi sa che ora era sempre vivo uno di loro no sono entrambi morti bene bene adesso sì allora aspetta ora aspettiamo perché dobbiamo prima spostare il quadro dobbiamo prima aspettare i passi in di là sposta oh e aspetta aspetta dovrebbe esserci ecco la stanza importante vai di qua qui c'era un salvataggio non c'erano oggetti particolari da prendere ok non c'erano oggetti particolari che palle davvero cioè ho soltanto un coso guardato che inizia a essere molto rischiosa salviamo su un quarto file dato che inizia a essere molto rischiosa abbiamo solo una fiala per curarci questo vuol dire dovremmo essere estremamente bravi allora anch'io sto morendo bambino mi sembra che non si può fare nulla per questo coso non possiamo ammazzarlo cioè a meno che non venga di qua non so se è ammazzabile questo tipo qua non è il manichino non è il manichino che sta a fare è un altro nemico vieni qua scusami non so se ti posso ammazzare se sei ammazzabile vieni perché sei un nemico strafacile vieni vieni qua per favore non credo che sia ammazzabile questo tipo non credo che sto tipo sia ucciso secondo me non si può toccare sto tipo qua non credo sia toccabile secondo me non muore secondo me questo tizio non muore ok aspetta aspetta ok aspetta aspetta ok aspetta aspetta ok aspetta aspetta fa vedere se ammazz se questo tipo ora posso farlo fuori lui dovrebbe essere quello che due colpi di fucile bastano oh mio dio oh mio dio oh che culo ok aspetta 55 60 65 70 170 nemici ce ne mancano 30 che poi comunque teniamo a mente che fatti fuori questi 70 nemici non è garantito che noi possiamo comunque ottenere il finale perché sono un minimo 200 da far fuori allora ci sono oggetti importanti no questo è un coso così normale è un libro normale ok questo l'avevamo già letto sì quella carta è un attimo importante fammi vedere ok 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 nulla qua nulla ok prendiamo questa carta e dovrebbe arrivare Vincent ora dovrebbe uscire Vincent entrare scusate se lui esce dalla stanza precedente ed entra in questa scusatemi sono scemo mi sta ancora registrando tutto bene perfetto la mia voce è uguale oh Vincent oh madonna rifiniamo il gioco oggi un po' una sorta di piacere quali sei in questo? non hai capito ancora? sì, tu sei a Claudia ti ho detto che non mi mettere in ogni cattiva come quella uccisola cioè sei anche anche loony Sì, è vero, crediamo in il stesso Dio, ma io sono abbastanza. Quindi perché mi aiuta a me aiutare? È stato anche parte di cercare di riuscire il Dio? Non è semplice per le persone che prezzi il stesso Dio e ancora non sbagliare. Dio? Sei sicuro che non ti vuoi dire il Dio? C'è quello che vuoi. Il punto è che ora sono davvero sul vostro. Non voglio che il Dio essere nato. Non sarebbe conveniente. Molto troppo impredibile. Non è comunque una cosa antica. I miei poteri sono le armi, i miei poteri. Il mio potere sarà la mitraglietta a 32, 64, 96 colpi. Il mio potere sarà la mitraglietta con 96 colpi. Sarebbe il lino se. Sarebbe il lino se. Se svolgere costretto il dito esilio là. E lo giudiciamo a amarele. E ascoltando loro a riuscire. Ti senti cominciato quando si uniscono su loro. E sbattare il loro lupo. Questa volta è vero. Questa volta ciò che dici tu è vero. Sì, stai parlando dei monstri? Monstri? Ci sono anche dei monstri? Non, non ti preoccuparti. È solo una gioca. Perchè, ho scusato a te chiedere. Hai la seal di Metatron? Cosa è quello? Non lo hai? Lennard lo portava! Cioè questa cosa? Si, questo è. As long as we have that. Raffine. Ok, prende questo. Allora, ci siamo? Ci siamo? Allora, leggiamolo giusto per praticità. Sì, va bene, va bene, bimba. Va bene. I bambini vanno estinti da bambini. Allora... Esci di qua. Non mi ricordo se... Credo che quelle porte fossero tutte chiute, vi sa. Quello lì è sempre morto, perfetto. Rotta. Rotta. Uguale. Ok, tutte chiuse, si prende l'ascensore. C'era qualcuno qui sotto, mi sa di sì. C'erano i popolanti o no? Oh, madonna. Ehm... Ehm... Salve. Cosa c'era di qua? Cosa c'era di qua? Cosa c'era di qua? Era una stanza chiusa, sì, ma... Giusto, qui c'era il coso. C'era l'obiettile per il fucile. Perfetto, perfetto. Ehm... Qui c'era? Pensavo ci fosse roba. Ehm... Aspetta, tarocco mi serve. Porca puttana. Mi sono cagato in mano perché pensavo... Che... Che... Mmm... Secondo... E che ho sentito questo suono ma mi sono cagato in mano perché pensavo che fosse... Oh mio Dio, quanto è alto. Mi sono cagato in mano perché pensavo che questo suono non venisse dal gioco ma ci fosse veramente qualcuno a giro. Ehm... Di qua. Ok. Mi sa che una certa c'era gente qui, mi sa. Allora. Ehm... Batteria per pistola elettrica. Perfetta. Ok. Ehm... Il diario era quello di Henry, sì. E l'avevamo già letto la volta scorsa, sì. Tutto normale? Tutto normale? Mmm... Le batterie per i taser sono importanti, aspetta. Ehm... Ricarica. I taser... Le batterie per i taser sono importanti. E... Ricarica anche il fucile. Allora, di qua. Quanta vita ho? Quanta vita ho? Quanto mi ha levato? Ok, aspetta. Accettabile, accettabile. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Non c'è verso di fare un cazzo. Ok, non abbiamo più cure. Non abbiamo più cure. E questi stronzi devono morire comunque. Questa bambina qua fuori non mi aiuta. immagina qua. Quanto mi ha levato il cuore? Adesso, traccioсп 댓 E. Irati che дв�� di garanti ma fuori non mi aiuta. Quindi ho provato il portico land stato osservato. Non abbiamo più cure ragazzi Uno e due Non abbiamo più cure Non abbiamo più cure a tutti gli effetti ragazzi Ora è un problema serio Da dove si sbuca da qua? Questa è chiusa mi sembra Qual è la porta giusta? Aspetta So che non era questa Ma era quell'altra Ok era questa Ora però c'è la gente bastarda Ed è un problema Si muore qua si muore No ragazzi qua moriamo Si muore Qui moriamo Qua si muore Qua si muore Non abbiamo cure Ragazzi ve lo garantisco Non abbiamo cure Qua si muore Qua mori Non possiamo farcela Non ci saranno mai i 30 nemici da ammazzare Oh no No ragazzi Rischiamo di non ottenere il finale Mi sono rotto il cazzo di questa bambina Adesso Vediamo se la finestra è chiusa Rompi al contro Ragazzi Non ce la facciamo ad arrivare a 200 nemici Non ce la facciamo È un problema serio Oh mio dio È un serio problema Non ci arriviamo Questo è un problema molto serio Questo è un problema molto serio Oh mio dio Un colpo e siamo morti Un colpo e siamo morti Ci servono cure Ragazzi ci servono È finita È finita È finita Qua si muore Non arriviamo alla fine Qua si muore La videocamera Oh mio dio Ma ti prego Qui c'era il mondo C'era il mondo Ragazzi non ce la facciamo Un colpo e siamo morti No ragazzi non ce la faremo mai Non ce la faremo mai Un colpo e siamo morti Senti Senti No ragazzi non lo finiamo Non lo finiamo Non lo finiamo È la fine Non possiamo farcela Un colpo e siamo morti Non abbiamo più cure Dammi delle cure Ho chiesto delle cure Non della roba Non delle munizioni Per favore Cure Ti prego Ti prego Ti prego La videocamera non è amica per nulla Allora Sì Non ce la faremo mai Non ce la faremo mai Oh madonna Qualcuno sopprima Questa bambina di merda Ok aspetta No stiamo a giallo Possiamo ancora farcela Ok aspetta Ok aspetta Aspetta È scemo È scemo Oh my god He's retarded Cosa Porca puttana Perché parlo Perché parlo La marema puttana Non ce la faremo mai Non ce la faremo mai Mai ragazzi Mai nella vita Io non Io dico E non ce la facciamo Sono scemo Madonna Devi saper parare Dio 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 Mi incazzo Mi incazzo Parca la puttana Parca la puttana Parca la puttana Parca la puttana Ciao Ciao Non ce la faremo mai Non potremo mai farcela Porca puttana No è vero C'erano questi Allora aspetta 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 Allora Loro l'hanno fatti fuori Ma è problematico Allora aspetta Prima di tutto Va a salvare Anzi no Sai cosa Non andare a salvare Non andare a salvare Ma porca puttana Ma lei davanti Ti dovevi mettere Non è possibile Sono tre Sono in tre La puttana Della puttana Del cazzo Della merda Della troia Della fica La puttana La puttana La puttana La puttana La madonna Che cosa è Che cosa è La madonna Lo lascio dire a voi Lo lascio dire a voi Che cos'è la madonna Da dove riparto Ok aspetta Ok aspetta Si riparte da qui Si riparte da qui E molto bene E molto bene Allora La videocamera Non è per niente amica Ma va bene Ora sapete cosa Ora si fa così Mi sono un pochino Rotto il cazzo Ora si fa così Abbiamo i proiettili Usiamoli Mi ha voluto prendere uguale Mi ha voluto prendere uguale La puttana Di merda Va bene Va bene Troia Va bene Troia Ora mi sono rotto il cazzo Ora mi sono rotto il cazzo Facciamo a maniera mia Ora si fa la mia maniera Mi sono rotto I Coglioni Carmelo Oh, no. Oh, no. Se non li vedi, scappa. La regola è quella. Se non li vedi, scappa. Se non li vedi, scappa. Se non li vedi, scappa. Oh, mio Dio. Aspetta, uno è giù. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Uno, due, cinquanta, cinquanta, cinque, sessanta, cinque, settanta, settantacinque, settantasei. Ora, esce e torna a salvare. Torna a salvare. E' così che voi si giochi, è così che giocheremo. Secondo me non lo becchiamo sto finale. Se non becchiamo questo finale, vedete come mi incazzo. Vedete come mi incazzo se non becchiamo sto finale. Intanto la videocamera mai fosse amica. Mai una volta la videocamera possa essere amica, mi raccomando. Ok. Nulla, questa è una stanza solo con nemici in più, va bene. Di qua c'era niente tranne i ciccioni che arriveranno dopo. Adesso, Alessa, vieni qua. Piangi, piangi, passa attraverso il muro. Se non ottengo il finale, vedete come mi incazzo. Vedete come mi incazzo se non ottengo il finale. Aspetta, passa lì dietro. E cerca di prendere sti affari, la prospettiva non aiuta. Adesso, ci deve essere il ciccione a qualche parte. Adesso, ci deve essere il ciccione a qualche parte. Ma io ho fatto quadrato per parare. Quadrato per parare l'ho fatto, non è giusto. Quadrato per parare l'ho fatto, non è giusto. Quadrato per parare l'ho fatto, non è giusto. Quanta vita ho. Sai cosa? Tanto la dovremmo usare lo stesso, quindi vai. Sì Sì E ora Ci dovrebbe essere un altro bastardo Ci dovrebbe essere un terzo di qua Dimmi che è solo uno Merda Sono risponati in tre Ok aspetta Però siamo vivi Però siamo vivi Aspetta Siamo vivi e siamo full health Allora aspetta Salva Salva Forse non tutto è perduto Questi li dobbiamo ammazzare Forse non tutto è perduto Ottanta colpi Cucile Sei Osiamo usare il taser Proviamo Tanto abbiamo salvato Tanto abbiamo salvato Proviamo ad andare là A usare il taser Contro gli stronzi Proviamoci Ok Non è esattamente ciò che pensavo accadessi Ok aspetta aspetta Il taser gli ha fatto molti danni Merda Allora Grazie a tutti Merda No Mi stanno disperdendo non va bene Oh mio dio Oh mio dio la videocamera La videocamera Come vuoi This wasn't the smartest choice Ma sono solo due ora? C'è uno era morto? No sono sempre tre Non sono sicuro andrà bene Non sono sicuro che finirà bene Ma Ma Secondo me non ce la facciamo Se noi non ce la facciamo mica No Oddio mi stanno sudando le mani ragazzi Ho le mani che mi stanno sudando No ho desidea Non esattamente ciò che avevi in mente Ma Colpo sprecato Ma ce la facciamo mica? Hanno troppa vita Hanno troppa vita Ste merde Hanno troppa No non li possiamo combattere Non possiamo combatterli Hanno troppa vita Ragazzi Questo finale Non lo otteniamo Credetemi 55 65 65 75 78 178 O affidiamo tutto su quanti danni abbiamo preso O non lo facciamo Ho presa l'altra carta Vero Ok mi manca solo l'altra carta Ok non entriamo in quella stanza Volendo lo possiamo fare Volendo possiamo farlo Ma è molto rischioso No No è troppo rischioso Ammazzatevi per favore Sto chiedendo di farmi ammazzare Sto chiedendo di farmi ammazzare Per favore Volete ammazzarmi? Oh mio dio vi prego Ora chiedo di farmi ammazzare Non mi ammazza nessuno? Ammazzatevi prego Mi manca poco Ammazzatemi Grazie Grazie Non era così difficile Non si può fare ragazzi Non si può fare Chiunque ha scelto Che questo è un metodo Per cambiare finale È un coglione Capisco perché poi Il team silence è diviso Perché ha iniziato a pensare A queste minchiate Ha iniziato a pensare Come possiamo cambiare Il finale del gioco Come abbiamo sempre fatto In maniera coerente No? Mi raccomando La visuale Non mi fa collaborare Tanto non ce la faremo Comunque a passare La portana Della puttana Della puttana Della puttana del cazzo Quanto vi tovo? A visuale! Va bene Contiamo nei due Contiamo nei due Non si sa mai Abbiamo delle cure Tra l'altro Abbiamo una fiala Ma non la uso Abbiamo una fiala Ma così non la uso Cosa c'era di qua? Ok aspetta Ancora Ancora non salvo Ancora non voglio salvare Di qua Di qua c'era la classe? No non ancora Però c'era la stanza Dove c'erano i ciccioni Prima Bene Ora Qui dentro Sarà un po' Un macello Quando vi toppiamo? Moriremo male Merda Merda c'è anche lui Ok Via dal cazzo Allora C'è anche per la terra Avrei pensato Possiamo combatterli Ma ho visto C'è anche per la terra E no C'è anche per la terra Un big nono Allora